Ma che casino è? Ragazzi! Ci siete? Ragazzi! Ma che avete scambiato questa casa per la discarica? Che palle! No, io dico, vi sembra normale che ci siano ancora i resti della colazione su questo tavolo all'ora di cena? È normale questo? Senti, ti ricordo che io ho una figlia. Ho dovuto pensare a lei e al mio lavoro. Tuo lavoro? Tu cosa hai fatto oggi? Ho suonato. Hai suonato, perfetto. Cosa ci voleva a prendere due piattini, due tazzine e a metterle nella lavastoviglie? Era complicato? No. È faticoso? No. Era pesante? Mamma mia quanto pesano quei tazzine. Vi ricordo che io ho mandato un sms alle 8 e 46 nel quale preannunciavo che sei arrivato in ritardo. Che cosa ci voleva ad andare qua sul geratore, prendere una confezione di cordon bleu, aprire il forno, metterlo qua dentro, farlo partire e aspettare che si scongeli. Era tanto complicato era, non interrompevo. Scusate, fatemi parlare, perché se due ragazzi di 20 anni e oltre non sono in grado di scongelare un cibo e preparare una cera decente, o sono degli inetti o sono molto, molto viziati. Scusate, posso dire una cosa? Adesso puoi parlare. Hai tolto la plastica? La plastica, la confezione. Non puoi metterla in forno, guarda che cazzino che è. Dai, per farlo, dai, ci pensiamo. Non ho visto la plastica. Chiaro scusa, chiaro venia, chiaro venia.